Il segno che tutti vogliono lasciare è un buon ricordo di sé, non c'entra quel che fanno però. Se hai fatto bene, gli altri diranno ha fatto bene, se ha fatto male, ha fatto male. Quando saremo morti non lo sapremo più se abbiamo fatto bene o male. Per cui anche questa è una domanda un po' scontata. Ognuno deve fare quello che crede giusto fare e basta.